Ciao amici! Una buona colazione può cambiare la giornata, è vero? Eccone una gustosa e in più bruciagrassi e detox. Oggi usiamo la quinoa in versione dolce in una ricetta dimagrante detox con cannella e miele antiossidanti e bruciagrassi. Ecco come si prepara. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ricetta vegana per due persone. 200 g di quinoa, 600 ml di latte di cocco non zuccherato, 2 mele dolci, 50 g di noci pecan, 2 cucchiaini di miele, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale. Tempo di preparazione è circa 30 minuti. 1. Preparare la quinoa. Mettete la quinoa in uno scolapasta e lavatela sotto l'acqua fredda fino a quando l'acqua risulterà limpida. 2. Cottura quinoa. Fate bollire il latte di cocco in una pentola, unite la quinoa scolata e il sale, poi mescolate e portate a ebollizione. Abbassate la fiamma e fate cuocere il tutto coperto per circa 15 minuti. 3. Grattugiare le mele. Nel frattempo lavate e sbucciate le mele, togliete il torsolo e grattugiatele. 4. Noci pecan. Tostate le noci pecan in una padella, fatele dorare, poi toglietele dalla padella. 5. Mescolate tutto, unite mele grattugiate, quinoa e cannella, togliete dal fuoco e fate riposare per 10 minuti. Al momento di servire guarnite con le noci pecan e addolcite col miele. Tenete in frigo fino al momento di servire e poi gustatevi la colazione di quinoa e cocco. Proprietà degli ingredienti principali, la quinoa è senza glutine, proteica e antiossidante e protegge il sistema circolatorio, è ricca di fibre e minerali. Il cocco è altamente nutriente, è ricco di fibre, vitamine e minerali, aiuta a bruciare il grasso addominale e riduce la fame nervosa. La mela è un frutto antiossidante, detox, è idratante, saziante, favorisce il dimagrimento, lo dicono studi scientifici. Per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile, iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Mangia consapevole e vivi meglio!